E' stata la sede del comitato elettorale del candidato a sindaco di area progressista a Vivo Valencia, il teatro in cui si è tenuto un incontro tra Enzo Romeo e altri due esponenti di primo piano del PD, Francesco Boccia, capogruppo al Senato, e Sandro Ruotolo, candidato alle elezioni per il Parlamento europeo nella circoscrizione sud. Un dibattito sentito all'insegna della politica di prospettiva, anche in proiezione nazionale e regionale. Ne ha fatta di strada Enzo da quando facemmo proprio qui l'assemblea regionale che gli diede questa delega straordinariamente piena di passione e in bianco anche di tutta la coalizione. E ora ci siamo, Enzo ha fatto una strada importante, ha costruito l'alternativa, un'alternativa fatta di sogni che dobbiamo realizzare a Vivo e vanno fatti rendendo il Palazzo di Città una casa di vetro aperta a tutti. Enzo è stato l'unico sindaco che ha detto che i voti dell'andrangheta non li vogliamo ma combattiamo tutte le forme di criminalità, tutte, da quella organizzata a quella minore. E io vorrei che tutti i candidati a sindaco dicessero la stessa cosa, l'andrangheta fa schifo, va combattuta, va debellata, va schiacciata. Noi siamo l'argine all'onda nera che c'è il rischio di avere in Europa e siamo l'argine per fare una battaglia meridionalista. C'è questo governo che sta prendendo delle misure che vanno contro il mezzogiorno. Noi chiediamo il voto proprio nel mezzogiorno per contrastare quelle misure. Noi siamo contro l'autonomia differenziata perché dividerebbe in due l'Italia, regioni ricche e regioni povere. Noi siamo per un mezzogiorno competitivo, abbiamo bisogno di infrastrutture, ma non abbiamo certo bisogno del ponte sullo stretto di Messina. Abbiamo bisogno di strade, di linee ferroviarie, abbiamo bisogno, come dire, di usare il denaro pubblico per la gente.